Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 12,2 km di coda per lavori, traversile e massa in direzione di Genova. Regolare il traffico altrove. Per le statali su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Poggi Bonsi e San Donato verso Firenze. Per gli stessi cantieri è inoltre chiuso lo svincolo di Poggi Bonsi Nord in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla SP18 Braccio di San Clemente fino alle 20 di domani 7 ottobre. Il ponte tra Rignano e Reggello è chiuso al traffico per lavori. Prima di salutarci per il traffico aereo il volo Firenze-Bari delle 7.15 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 13.15. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, da Agnese Fedeli un buon proseguimento d'ascolto.